Cardinale, qual è il senso di questa giornata? Che i giovani hanno qualcosa da comunicarci, loro ci sono, noi qualche volta fingiamo di non vederli o diciamo che ci danno fastidio, loro sanno portarci gioia, speranza e credo che hanno voglia di costruirsi il futuro e credo che sia il messaggio più bello questo. In un momento in cui i giovani dell'agrigentino in qualche modo sono alla ribatta delle cronache perché costretti ad abbandonare questo territorio dopo gli studi per andare a cercare il lavoro altrove? Forse Agrigento ha bisogno di sperare di più nei giovani perché questi sono i giovani agrigentini, se Agrigento li ama, li trattiene, se Agrigento pensa ad altro, questi ragazzi non hanno motivo di restare qui, allora è un impegno di noi adulti a fare posto a loro. E cosa resta a questi giovani che partecipano oggi a questa iniziativa? Ma io ritengo che qualcosa resta sempre perché la gioia lascia sempre il segno, la speranza lascia sempre un'orme, la voglia di vivere è il segno più bello che ci sia, sono piccoli semi che si mettono nel cuore dei giovani, qualche seme forse andrà perduto ma tanti altri potranno diventare anche fiori e alberi.